Emporio del Caffè, Passo di Mirabella, in località Piano Pantano. Una partita davvero bloccata, soprattutto nel primo tempo la tensione dell'intera posta in palio ha giocato uno brutto scherzo a tutte e due le squadre. Poi nel secondo tempo avete subito quel gol, ma c'è stata una reazione davvero importante. Sì, partita un po' bloccata, sentita da tutte le squadre perché l'Avellino sicuramente voleva venire qui e non perdere. Noi andavamo alla ricerca di una vittoria che ci potesse far salire un po' di classifica, agganciare l'Avellino stesso. Quindi inizialmente queste partite qua si sentono perché la posta in palio è altissima. Credo che alla fine, se andiamo a vedere per quelle che sono state le occasioni e le situazioni, senza niente togliere l'Avellino, probabilmente Lentella meritava la vittoria perché c'è stata una reazione importante dopo il gran gol che ha portato a vantaggio gli Irpini. Però devo dire che la squadra rispetto ad altre volte che l'ha un po' accusata ha reagito bene, ha messo alle corde negli ultimi dieci minuti e un quarto d'ora a L'Avellino creando tante occasioni. E quindi insomma c'è da vedere questo aspetto positivo qua. L'Avellino sicuramente stasera è più contento di noi perché va a casa con un punto che gli permette di muovere la classifica e di mantenerci a distanza, però noi dobbiamo ripartire dalla partita appunto che è stata fatta e andare a cercare di vincere Marti da Venezia. Ecco appunto, la reazione che l'Avellino aveva avuto lunedì con il Perugia, in parte anche quest'oggi qui a Chiavari, la vostra nel finale, questa escalation dei risultati da parte della Ternana, è una classifica davvero indecifrabile sotto, anche sopra in verità. In questo momento tu chi vedi sfavorito sinceramente? Ma non lo so, è difficile, è difficile, è un bel thriller, un bel thriller. Per noi va bene così perché più squadre siamo lì e quindi più bagarre sarà fino alla fine, quindi può succedere di tutto. Il pareggio che abbiamo ottenuto oggi è importante proprio per questo motivo qui, perché ci permette anche noi di muovere la classifica e di rimanere agganciato a tante squadre, perché l'Ovara oggi perde in casa, è vero che sale la Ternana ma loro perdono, rimangono lì, il Cesena pareggia, il Pescara pareggia in casa, quindi insomma la classifica, c'è una partita a meno ma la classifica si è spostata di poco, quindi per noi è importante. Ed è difficile dire chi può più o meno essere spacciato ad oggi perché tutte le partite le giocano e tutti fanno dei risultati a volte anche insperati. L'Avellino penso che in pochi pensassero che potesse vincere in casa col Perugia dopo che il Perugia arrivava da una striscia di risultati incredibile, invece sono stati bravi perché hanno portato a casa una vittoria che gli ha spostato di equilibrio in questo momento qua e quindi è difficile fare previsioni. L'unica cosa certa è che, ti ripeto, per noi più squadre siamo lì e più squadre saranno come noi a lottare fino alla fine, quindi probabilmente ci permetteranno anche a noi di poter entrare o comunque di mettere il naso fuori rispetto a quello che ad oggi è la classifica. Saranno fondamentali soprattutto gli scontri diretti, voi ne avete un altro qui a Chiavari contro Lascoli, ma più in generale ti chiedo perché Avellino, Entella, anche lo stesso Pescara, erano squadre costruite certamente per obiettivi maggiori, si sono ritrovate nei bassi fondi della classifica, un po' la sfortuna, un po' l'infortuna e quello che accomunano sia il percorso dell'Avellino che anche quello dell'Entella. È vero, è un po' la Serie B, la Serie B a volte sulla carta o per quello che è fatto le annate precedenti o per quello che può sembrare la rosa a disposizione ti fa credere che puoi fare un campionato diverso da quello che stiamo disputando noi, ma anche l'Avellino o il Pescara stesso. Invece poi ti ritrovi in questa situazione qua perché magari la stagione parte male, perché magari si sbaglia qualcosa a livello generale e dopo levarsi da questa situazione qui deve avere la forza come ha avuto magari il Foggia, che gli avevano fatti complimenti per quello che sta facendo perché all'inizio del girone di ritorno era sotto di noi, ad oggi si trova un passo di playoff, quindi o sei talmente bravo a fare una roba del genere o altrimenti si è invischiato fino alla fine. E quindi sai le partite passano, i risultati mancano, subentra un po' di paura, non si è abituato perché l'Entella nei due anni che sono stato io si è salvata a 8-10 partite dalla fine, quindi per noi è una situazione nuova da gestire perché non sappiamo gestire visto che non l'abbiamo fatto negli anni precedenti e quindi dopo è un insieme di cose che ti fa venire il braccino corto, che ti fa venire un pochino di ansie e quindi purtroppo ti ritrovi a giocartela così fino a fondo quando all'inizio dell'anno magari potevi pensare di fare un campionato diverso, quindi questo è quanto.